Ciao a tutti ragazzi e bentornati, come state? Spero bene, anche se in questo periodo so che sia abbastanza difficile. Prima di iniziare con questo video però vi voglio ricordare del canale Telegram che abbiamo creato per raccogliere tutte le offerte migliori in assoluto su Amazon riguardo la tecnologia. Trovate il link qui sotto in descrizione, mi raccomando seguitelo perché ci sono veramente offerte incredibili ogni santissimo giorno alle 9 di mattina, così che possiate magari trovare anche qualcosa di utile soprattutto in queste giornate un po' noiose, mi raccomando. Detto questo sono anche molto felice di come sia andato il contest, non solo perché il video è andato alla grande ma perché avete inviato ben 520 candidature, quindi 520 tra foto e video ed è stato difficilissimo trovare il vincitore perché veramente alcune erano divertentissime, alcune interessanti, alcune come dire anche incredibilmente in tema, cioè dove mostrate veramente la vostra passione per la tecnologia. Quindi ci ho messo qualche giorno, scusate per il ritardo ma 520 email sono veramente tante. Però ho trovato il tempo necessario e ho il vincitore e lo so che molti di voi saranno scontenti, non saranno felicissimi della mia scelta, ma ora ve la motivo, però prima di tutto vi faccio vedere il video. Quindi ecco il vincitore. Il ragazzo che mi ha inviato questo video si chiama Simone Nappi, e ora vi spiego perché ho scelto proprio lui come vincitore di questa 5600 XT. Diciamo che secondo me ha rappresentato a dovere ogni aspetto richiesto proprio per quanto riguarda le foto o video che avreste potuto mandare. Innanzitutto la creatività. È stato uno dei più creativi in assoluto per quanto riguarda i video che mi sono arrivati, ha tirato fuori un'idea anche in linea con il momento, con il periodo. Infatti non c'è soltanto qualcosa di creativo e anche simpatico, ma c'è un messaggio molto importante, ovvero stare a casa. Però, come dire, quello che ho visto io, che ho personalmente percepito, è che la tecnologia può essere un modo per superare anche le situazioni un po' più difficili. In questo caso noi siamo chiusi in casa, non sappiamo cosa fare, quindi con la fantasia possiamo andare ovunque, e la tecnologia sicuramente ci porta in quella direzione. Insomma, questo è quello che ho visto io in questo video e personalmente mi ha colpito. Devo dire che ha fatto anche un buonissimo lavoro tecnico, sebbene ci sia qualche difetto comunque non importa perché il messaggio è arrivato forte e chiaro. E come detto prima racchiude proprio anche il discorso di amore per la tecnologia, non solo per quello che si vede in video, ma anche per quello che ha realizzato. Cioè il vero e proprio editing, quindi dimostra di conoscere alcune tecniche che soltanto un vero appassionato può conoscere. Non so se lui lo fa di lavoro, se ha intenzione di farlo, insomma, comunque ha fatto veramente un buon lavoro. Mi raccomando ragazzi, fate i bravi qui sotto nei commenti, anzi, supportate un po' il vincitore, se avete dei commenti da farli o comunque pensate che questo video sia veramente così interessante come l'ho visto io, beh, fatelelo sapere, perché sono sicuro che ne sarà felice. Ho già contattato Simone, quindi lui sa già di essere il vincitore, spero che mi risponda a breve, così gli potrò inviare la sua 5600 XT. Sono veramente comunque contento ragazzi di come sia andato tutto questo contest, mi avete fatto divertire tantissimo, mi avete veramente fatto vedere la vostra passione. Quindi spero veramente e vivamente di riuscire a portare altri contest di questo tipo durante l'anno. Non è facilissimo perché comunque sono soldi di tasca mia, non è certo uno sponsor in questo momento a mettere a disposizione un prodotto di questo tipo, però chi lo sa, magari un domani qualche sponsor potrà anche aiutarci in questo e portare quindi a voi qualche prodotto più interessante. Non che questa scheda non lo sia, anzi, è fantastica. Vi ricordo nuovamente che in descrizione trovate il link al canale Telegram, dove ogni giorno posteremo nuove offerte, nuove incredibili offerte, anche con coupon sconto. Quindi non mancate e mi raccomando, seguiteci. Bene, ho detto veramente tutto, quindi come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto! Ciao! Ciao!